Allora, buongiorno, il titolo di questo primo panel è Eventi enogastronomici e innovazione dai big data alla blockchain. Io penso che non possiamo fare veramente in modo di cercare di recuperare il possibile rispetto ai tempi che ovviamente sono andati un pochettino più lunghi e parto semplicemente da una considerazione. L'autoressa Priante ha detto che il problema non è avere i dati ma come li usiamo. Oggi cerchiamo di raccontare due case history su innanzitutto come si fa ad averli questi dati all'interno di una manifestazione come quella della Fiera del Tartufo e più in generale sull'utilizzo di questi dati. E poi appunto che cosa vuol dire avere questi dati e come li si usa per cercare di fare una programmazione di un evento che ha 93 anni e che in qualche modo sta dimostrando che si può anche essere vecchiotti e rimanere innovativi, rimanere sempre aggiornati. Questo è un po' il tema del nostro incontro. Io invito Stefano Mosca che è il direttore dell'ente Fiera nazionale del Tartufo Bianco d'Alba come preferite voi. Io metto qua. Allora Stefano ti lascio subito a te. Dicevo sono con noi Stefano Mosca, Cristina Berlgonzo che è responsabile dell'osservatorio turistico nazionale della regione Piemonte, Isabella Gianicolo che è responsabile scientifico del centro nazionale studi Tartufo, Jacopo Romagnoli che è idofen innovation di Var Group e Vincenzo Rana docente del Politecnico di Milano e co-founder e CEO di Knobbs. Quindi abbiamo un panel che ci racconta sia la parte più istituzionale sia la parte più operativa di quello che si sta facendo. Allora inizierei con Stefano Mosca che ci racconta i due progetti sui quali la Fiera del Tartufo sta lavorando proprio nell'ambito della raccolta dati e non solo nella tracciabilità e tutte queste cose. Bene, buongiorno a tutti, grazie Roberto. Parto riprendendo due concetti perché è stata una presentazione che è andata un po' lunga ma perché i contenuti erano estremamente interessanti. Quindi mi fa piacere riprendere due concetti. Intanto che cos'è la Fiera? Scusate, molti di voi lo sanno però è bene ribadirlo. Saluto la mia Presidente e anche Liliana che è qui con noi. La Fiera è un grande evento che dura nove settimane ed è un grandissimo contenitore di esperienze. L'ente Fiera, la Fiera del Tartufo è parte di un sistema territoriale. Oggi parliamo di due esempi che coinvolgono anche altri attori di questo sistema perché è veramente un evento, una manifestazione collettiva, è uscito questo termine, coinvolge veramente il territorio e la comunità. Questo è un primo punto secondo me molto molto importante. Nove settimane non vendiamo Tartufo. Qual è il nostro prodotto? Questo è molto importante dirlo. Il nostro prodotto sono esperienze. Questo è il tema. Ecco perché affrontiamo il tema dell'innovazione. Perché noi dobbiamo ad ogni edizione, e per questo già nel passato si è fatto un grande lavoro, essendo la 93esima, innovare. Innovare, uno dice ma se fate la Fiera del Tartufo, cosa innovate? Vendete il Tartufo, proponete il Tartufo. Beh non solo, ci fossimo fermati lì, forse non saremmo arrivati alla 93esima edizione. Il nostro prodotto come ho detto sono esperienze, quindi noi dobbiamo continuare ad innovare in termini di esperienze che offriamo ai nostri visitatori. Con un percorso che esattamente, a me non lo speriamo, poi sarebbe bello confrontarci nuovamente con la professoressa Antonioli, che è esattamente quello citato, cioè la misurazione, la programmazione e la managerialità. Cerchiamo di costruire ogni edizione mantenendo questo percorso e questo tipo di struttura, diciamo di format e di concetto, coinvolgendo il più possibile la comunità. Per far questo ci dotiamo di strumenti, è stato detto il digitale è uno strumento, cioè ci siamo sempre evoluti nella storia, nella nostra e in quella dell'umanità. Non è che perché oggi esiste il digitale si innova, il digitale non è che è uno strumento che può accelerare alcuni processi, li può facilitare, ma non è per quello che si innova o sia innovativi perché si usa il digitale, ci mancherebbe non si usasse, voglio dire, se no non saremmo contemporanei, e questa è l'altra nostra grande ossessione, guardo Liliana, confrontiamo costantemente, noi abbiamo l'ossessione della contemporaneità. Noi facciamo un evento che sta tra, e abbiamo un ruolo tra l'event management e il destination management, perché la nostra ricaduta, e questo l'obiettivo della Fiera Vero, è non vendere tanti tartuffi, ma generare e attrarre flussi turistici su questo territorio che generano una ricaduta diretta e indiretta alle imprese di questo territorio. Ecco la sostenibilità di cui parliamo spesso nell'ambito della Fiera. Interpretando sui tre assi è uscito molto bene. Economico, le imprese, penso ci siano anche degli imprenditori in sala, devono stare in piedi, reggersi economicamente. Senza questo aspetto dell'asse economico e della sostenibilità non riusciamo ad affrontare quello sociale, a noi molto caro, e quello ambientale, che è il terzo asse su cui cerchiamo di lavorare, se non altro di sensibilizzare. Allora, i due casi di oggi sono interessanti poi l'approfondimento, lo lascio ai colleghi, sul tema della blockchain, e ringraziamo perché è stata un'idea lanciata e oggi siamo a raccontarla, ci fa particolarmente piacere. Invece il tema dell'osservatorio piemontese che ha accettato una nostra proposta, una proposta di sistema, perché è coinvolto l'ente del turismo, è coinvolta anche la banca d'alba, cioè è stato un caso che è diventato poi un caso regionale, forse anche nazionale in alcuni casi, di coinvolgimento pubblico e privato con una finalità ben precisa. A noi questi dati servono, è stato detto, i dati servono, sono uno strumento manageriale indispensabile, sono anche uno strumento indispensabile per gli amministratori di questo territorio, perché tutto ciò che stiamo dibattendo, affrontando l'over tourism, che forse non esiste come il Molise, però chiamiamolo come vogliamo, è un tema, c'è consapevolezza, questi strumenti, questi dati possono aiutarci ad affrontarlo, per cui abbiamo, grazie alla disponibilità di Visiti Piemonte, Union Camere, la regione, tutti i partner che dimenticherò sicuramente, siamo riusciti a creare un osservatorio locale con un focus specifico sulla fiera. Non è nulla di stravolgente, non è nulla di così innovativo, però ci siamo dotati di uno strumento, non tutti ce l'hanno, il fatto di aver fatto il focus su un evento di questo tema è perché nell'event management non puoi organizzare qualcosa senza avere dei dati molto precisi, che ti danno delle conferme, che ti tracciano delle prospettive, ma che sono indispensabili per essere contemporanei, elemento fondamentale per il successo di una manifestazione, se sei troppo avanti non vieni capito, se resti troppo indietro vieni capito benissimo, ma non ti fila nessuno, per cui ecco la nostra ossessione, essere contemporanei, questi strumenti ci aiutano ad essere. Grazie a Stefano Mosca, credo che molte delle persone che sono qua conoscano bene la fiera del tartufo, quindi non voglio dire nulla di troppo scontato, però non è invece così scontato fare questo ragionamento su una fiera appunto che è davvero, per chi la conosce, un misto di tante cose che vanno dal molto tradizionale, dal molto folcloristico, al mondo, non voglio dire avanguardistico, ma insomma molto innovativo, nella proposta, nella proposta di certi tipi di attività, di esperienze e così via, quindi mettere insieme queste anime qua e capire chi fa che cosa, perché lo fa e come lo fa e con quale risultato non è davvero una sfida da poco, anche perché diciamo, può sembrare un paradosso, ma un problema che non c'è, perlomeno non in questi ultimi tempi, era quello del far arrivare più gente, in un certo senso. E quindi su questo faccio intervenire subito Cristina Bergonzo per capire esattamente cosa avete fatto per cercare di monitorare quello che è il flusso turistico, in particolare di chi viene in questo territorio nel periodo della fiera, e anche con qualche sorpresa, se ho capito bene, perché con gli strumenti che avete utilizzato abbiamo scoperto che forse ce n'è di più di quelli che diciamo che ci sono, o sbaglio. Sì, allora, intanto se dalla regia possono mandare le slide, grazie mille, così mi aiutano nel raccontarvi un po' questi dati. Allora abbiamo sentito prima come appunto c'è questa focalizzazione, questa attenzione al dato, quindi troppi dati, molto si lavora sui dati, ma noi stiamo cercando di lavorare sui dati quelli che venivano detti prima dati buoni. Avere dei buoni dati ci aiuta comunque a ragionare, a misurare, a pianificare, a governare. Diceva prima Stefano introducendo questo strumento, questo è uno strumento proprio del territorio, di voi operatori, perché è nato da una suggestione, da una richiesta proprio degli enti, quindi ente fiera, ente turismo, col sostegno della Banca d'Alba che è interessata allo sviluppo di questo territorio, ma con, diciamo, un intervento a livello regionale di visiti Piemonte e di Union Camere. In particolare abbiamo declinato quello che è l'osservatorio turistico con il cruscotto di analisi che noi realizziamo a livello regionale focalizzato verticale su quelle che sono le attese e le esigenze di questo territorio, semplicemente mettendo insieme indicatori statistici, risultati di sondaggi di previsione, il monitoraggio della rete, il sentiment e cercando di monitorare quella che è la spesa. Bene, parliamo di fiera, parliamo di fiera d'Alba, ma parliamo di un territorio nel suo complesso. Fiera è un grande evento, un brand, che però porta a larga, ovviamente, il suo effetto a tutto il territorio. Quindi noi ragioniamo su quelle che sono le offerte, qui in particolare abbiamo il dato semplicemente della struttura ricettiva, quello che è il fulcro per definire quello che è il turismo, quindi il pernottamento fuori, come è cambiato nel tempo in termini di strutture e qui c'è il tema delle locazioni private, di come molti non operatori specializzati intervengono in questo settore dal punto di vista dell'offerta e abbiamo monitorato quella che è la domanda, la classica dei movimenti turistici, gli arrivi e i pernottamenti. Abbiamo visto che questo territorio, la caduta, il fermo, lo stop della pandemia ha saputo reagire e quindi se noi effettivamente tracciassimo una linea tra il 2019 e il 2022 potremmo dire che la crescita è stata praticamente costante. Come viene fruito questo territorio però durante l'anno? Noi sappiamo benissimo che ci sono dei momenti di picco, è stato un territorio che ha saputo aumentare la sua fruizione nel periodo della primavera e poi dell'estate nel tempo. All'inizio non era così, c'era un primo semestre decisamente più piatto per poi avere questo picco autunnale tipico del vino e del tartufo. Nel tempo questa curva si sta diciamo sta lievitando nella primavera. Che arriva su questo territorio? È un territorio come dico sempre molto bilanciato e questo è stato anche una forza nel periodo appunto di stop perché ha una componente Italia-estero che durante l'anno si va sostanzialmente a sistemare su quote appunto intorno al 50%. La Svizzera ha superato la Germania ormai dal 2015 come presenza su questo territorio la Germania seconda francesi interessantissimo il tema degli Stati Uniti d'America sulla quinta posizione che ha saputo anche incrementare nel 2002 fino ad arrivare a tutti i paesi del nord Europa. Questa è la classifica invece delle provenienze in Italia le principali regioni italiane la Lombardia ha un livello di fidelizzazione su questo territorio altissimo turismo interno e poi Emilia-Romagna Veneto Liguria le prime posizioni. Come dicevo prima agganciamo i dati statistici i dati di monitoraggio della rete e qui per questo territorio abbiamo cercato anche di capire come si muovevano sulla rete gli indicatori legati anche a benchmark su altri territori che hanno prodotti analoghi Lange Monferrato Roero che si confronta in particolare per il vino con le destinazioni italiane Brunello Chianti Franciacorta e poi con una destinazione Faro un competitor al quale si guarda sempre la Borgogna aree diverse con punti di interesse che compongono la filiera in termini di strutture ricettive ristorazione attrazione che hanno una dimensione diversa ma dal punto di vista del sentiment un sentiment che premia questo territorio quindi una soddisfazione sulla rete per la recettività delle Lange Roero migliore rispetto agli altri territori questo è un dato importante per avere la consapevolezza di quello che è il nostro prodotto per riuscire a posizionarlo sempre meglio e per riuscire a investirlo anche nell'evoluzione e nell'innovazione e poi la ricaduta attraverso un accordo con Mastercard questo l'ha realizzato il partner Union Camera dell'osservatorio abbiamo tracciato quello che è l'andamento della spesa in particolare nel pernottamento e nella ristorazione questo è un dato 2022 del periodo appunto di di curva dell'anno dove si vede che queste curve sono sostanzialmente in linea con quelle che sono i movimenti turistici questo è un indicatore normalizzato alle prime settimane dell'anno 2022 se adesso passiamo a un focus specifico sull'ultima fiera sempre a partire dal dato di spesa vediamo come i principali mercati quindi la variazione addirittura anno su anno solo nel periodo della fiera per quanto riguarda gli americani abbia subito una variazione incredibile quindi stiamo parlando di 150% rispetto alla stessa settimana dell'anno precedente ma anche i mercati Svizzera Germania UK e Francia che sono i principali mercati che trovavamo sono quelli che sono i maggiori sostengono la spesa maggiore vorrei farvi notare qui in questa settimana del 24 di ottobre come la spesa ai Paesi Bassi sia particolarmente rilevante abbia questo picco di variazione interessante e poi appunto anche in chiusura questo perché sulla sperimentazione che abbiamo fatto abbiamo aggiunto poi altri indicatori la percentuale l'andamento di presenza sul territorio è confermato ovviamente dalle recensioni i contenuti monitorati aumentano e aumentano in maniera sostanzialmente correlata al numero di persone che visitano e questo è l'analisi dei dati giornaliere delle presenze sulla città di Alba nei due mesi abbondanti di periodo della fiera abbiamo cercato di confrontare l'andamento che sembra un po' un elettrocardiogramma come se facessimo una radiografia effettivamente a questa città durante questo periodo confrontandolo negli ultimi tre anni diciamo più di riferimento 2019 il 21 e il 22 e cercando poi di shiftare e cercare di far coincidere il giorno di inizio di inaugurazione della fiera per tutti gli anni bene l'andamento è assolutamente confermato di questo battito della città dove appunto ci sono dei pic a seconda degli anni diversi in relazione a dove si trova il ponte dei Santi in un anno o in un altro tendenzialmente questa è un po' la firma del movimento turistico della città ma la fiera propone impone sviluppa il movimento turistico su tutto il territorio e anche in questo caso la firma di questo periodo del turismo ripercorre la stessa o lo stesso andamento sostanzialmente della città questi sono gli indicatori principali che abbiamo analizzato ma ne abbiamo introdotto un altro innovativo abbiamo cercato di fotografare non soltanto con le statistiche che abbiamo a disposizione con gli strumenti che vi dicevo ma cercando attraverso la collaborazione di Win3 con un loro sistema di analisi delle presenze attraverso le celle telefoniche di capire come si muovono le persone sul territorio e in questo caso abbiamo iniziato a fare un po' di elaborazione sperimentale questo è il primo lavoro che presentiamo quindi questo è anche un luogo così di confronto dove abbiamo profilato appunto le sim non tanto per residenza anagrafica ma residenza effettivamente di vita per cercare di capire chi torna ad Alba chi viene ad Alba e anche cercare di quantificarli effettivamente attraverso ovviamente il market share dell'operatore telefonico qui vediamo la componente italiana una componente che ricalca il battito cardiaco diciamo così dei movimenti turistici del territorio ma che sicuramente nel momento del weekend soprattutto la domenica dove il sabato si incrociano check in e check out vediamo una presenza maggiore ma anche una presenza che va a far emergere quelle persone che in qualche modo sfuggono al tracciamento dell'accettività e delle locazioni turistiche noi sappiamo che i parenti e amici per esempio è un'opzione che aumenta comunque il flusso sul territorio scusi è interessante ma solo per capire è un dato che si riferisce alla presenza giornaliera o? no questi sono presenti sicuramente giornalieri perché il dato è giornaliero ma classificato come comunque pernottante sul territorio quindi è più significativo perché altrimenti uno potrebbe dire lo ha fatto nell'eventi nel passato invece no avremo anche quel dato lì lo stiamo elaborando perché lo stiamo testando prima di portare dei dati a noi piace portarli buoni e quindi stiamo lavorando su questo e questo però è già un dato buono e testato quindi questo è un dato di pernottanti Italia che in qualche modo si sono appunto riversati sulla città di Alba ancora sulla città di Alba questo è l'andamento della Germania molto molto interessante è l'andamento della Svizzera quello che dicevamo prima sul tema del fatto che c'è comunque una componente che sfugge ancora al monitoraggio o dormono in auto o dormono da qualche parte direi che la comunità svizzera su questo territorio è molto ampia radicata quindi voglio dire non credo di dover spiegare questo a questi operatori nello stesso tempo vi facevo notare prima la componente di variazione della spesa degli olandesi in quella famosa settimana di ottobre e guardate qua insomma anche il picco che troviamo sia nelle presenze insomma dei movimenti turistici ma ancora più amplificata in quella che è nella presenza stimata attraverso la telefonia mobile non vorrei annuiare oltre questo è l'andamento ancora stimato del mercato americano che abbiamo visto come in variazione percentuale di spesa si è ritornato in modo pesante sul nostro territorio e chiudo ringraziandovi e dandovi appuntamenti al prossimo aggiornamento grazie a Cristina Bergonzo vedete come i dati siano davvero significativi interessanti adesso io non voglio leggerli in maniera troppo grossolana però è oggettivo che c'è un insomma non chiamiamo un sommerso o comunque un problema di far emergere tutto quello che arriva perché è abbastanza rapante così come avete un problema sul mercoledì mi sembrano sostanzialmente ma non sulla telefonia ma beh però un po' un po' adesso a parte le battute sarà poi da chiedere a Stefano Mosca non so se subito o dopo la seconda presentazione che cosa ne facciamo poi di questi dati da un punto di vista proprio operativo nel senso che appunto un conto è raccogliervi e poi cosa pensate da un punto di vista strategico di fare vista questa questa situazione o comunque insomma andando avanti in questa in questa prospettiva prego subito una cosa ma non è se io prendo la domanda ma è una domanda da fare di nuovo al sistema perché questi sono i ragionamenti che facciamo proprio con Entriturismo piuttosto che col Centro Nazionale Studi sul Tartufo dire bene c'è anche questo pezzo in più oltre ai dati Istad il gap è impressionante e qui non c'è l'escursionismo giornaliero su cui Cristina sta lavorando per cui la massa di persone è importante come la si gestisce noi la vediamo sempre come un'opportunità innanzitutto quindi quello su cui si sta ragionando adesso penso ad Entriturismo la battuta sul mercoledì è pertinente e coerente nel senso che quello su cui si sta ragionando è di offrire esperienze anche in altri giorni della settimana a mercato chiuso questo è già un primo elemento da mettere sul tavolo e da condividere a livello di sistema così come abbiamo iniziato a fare come Ente Fiera per chi appunto non conosce il programma della Fiera sarò brevissimo però facciamo un sacco di esperienze durante la settimana facciamo i corsi di cucina al Castello di Roddi quando ci domandiamo quando farli grazie ai dati che abbiamo a disposizione abbiamo scelto lunedì mattina ecco noi siamo sold out dall'inizio della Fiera fino alla fine della Fiera proprio perché li facciamo lunedì mattina in un momento in cui non c'è una concorrenza di offerta esperienziale di quel tipo sul territorio per cui ecco l'utilità dei dati ecco come questo ci serve subito a confrontarci con gli altri attori del territorio e l'altra potrebbe essere l'idea di coinvolgere gli operatori che sono meno professionali e che però ormai rappresentano una fetta importante di partnership nel senso che se ci sono in qualche modo bisognerà forse anche andare a stanarli un poco e qui entra in gioco l'entreturismo il tema della formazione e se lavorano in qualche modo lasciarli a briglia sciolta non serve e allora la formazione e la programmazione partecipata quindi la direzione è questa grazie grazie Stefano grazie a Cristina passiamo alla seconda che esistvi che è quella invece specifica un po' più sul prodotto il prodotto in questo caso è ovviamente il tartufo con un'esperienza che la fiera del tartufo e in particolare il centro nazionale studi tartufo di cui Isabella Giannicola è qui come responsabile ha portato avanti già da tanto tempo a dire il vero nel senso che io adesso poi ci dirai Isabella la fiera si è dotata di un panel di giudici di analisi sensoriale ormai non so forse 10-15 anni 9 anni 25 anni quindi insomma stiamo parlando davvero di qualche cosa che ben prima di big data e così via ma che anche questo sta evolvendo sta crescendo e sta portando ad un'idea ancora più diciamo contemporanea e qui si lega il tema della blockchain e così via però lascerei a Isabella il compito di spiegarci cosa state facendo sì infatti grazie intanto noi abbiamo sempre fame di dati quindi questo parlare di informazioni così specifiche scientifiche fondate purtroppo noi al centro studi i dati non li abbiamo mai perché noi rileviamo il tartufo nel momento in cui c'è un mondo del sotto e un mondo del sopra noi nel momento in cui è sopra riusciamo a misurare qualsiasi cosa nel momento in cui è sotto prima che venga estratto noi non abbiamo questo tipo di informazioni per cui tutto il misurabile è sempre visto con una certa affascinazione da parte mia e quindi è stupendo tentiamo di farne buon uso per quanto riguarda il nostro protocollo di certificazione appunto attivo da circa 25 anni si incontra con la nascita di un gruppo di giudici di analisi sensoriale che lavora su tutte le fiere del Piemonte ma che è nato sul mercato del tartufo di Alba attraverso un regolamento molto puntuale che il comune stila ogni anno e che permette ai nostri giudici di selezionare tutti i tartufi che vengono posti in vendita sul mercato questo perché torniamo al misurabile possiamo fare tante cose cerchiamo di farle sempre al meglio ma quella che per noi è la cosa l'offerta fondamentale che le fiere del tartufo del Piemonte in particolare quella di Alba devono dare è una garanzia di qualità il tartufo è un prodotto estremamente complesso sia dal punto di vista dell'approvvigionamento perché prevede ore e ore di camminata magari in orari notturni sia dal punto di vista della conservazione quindi tutto il prodotto che è offerto all'interno del mercato mondiale del tartufo di Alba deve rispondere a un certo tipo di standard e questo standard viene valutato in maniera super analogica perché ci sono tre giudici che lo valutano lo toccano lo guardano e lo annusano e in maniera immediata perché hanno maturato anni e anni di esperienza quindi non è che stanno lì a fare la scheda come un sommelier provetto lo fanno in maniera estremamente rapida ma con moltissima competenza selezionano i tartufi e trattengono quelli che durante la giornata non possono essere venduti sul mercato a questi tartufi che passano il controllo viene assegnato un sacchetto numerato e quel sacchetto numerato è la garanzia di passaggio attraverso la commissione qualità a questo protocollo poi nel corso del tempo abbiamo aggiunto una versione pro che è quella della certificazione qualità quindi tartufi così come molti di voi li hanno visti che hanno un sigillo questo sigillo che è apposto con un giro di rafia perché ogni tartufo è diverso dall'altro dall'altro sia dal punto di vista organolettico ma in particolare anche della forma possono essere piatti bitorsoluti più tondeggianti o via discorrendo questo è il valore del tartufo non esistono due tartufi identici soprattutto poi per quanto riguarda i tartufi importanti che per molti sono quelli di dimensioni importanti ma in realtà molto si riconduce anche al profilo organolettico quello che noi chiamiamo profilo organico volatile il profumo è la carta di identità del tartufo quindi i nostri giudici per porre questo sigillo si valutano si riuniscono in gruppi di tre valutano tartufi superiori ai 50 grammi hanno degli standard di riferimento e quindi questi tartufi che superano questo controllo hanno diritto ad avere il bollino perché è importante questo bollino perché quasi sempre questi tartufi sono portati in valutazione da commercianti o da trifulao anche perché tutti hanno il diritto di poterlo fare chiunque vende il tartufo può farlo sia sulla fiera del tartufo sia presso la nostra sede durante il periodo in cui è concessa la cerca e la cavatura che vanno all'estero per cui l'acquirente finale che molto spesso è a Singapore è in Giappone oppure in Australia è certo che quel tartufo è stato valutato da una commissione eccellente di persone che hanno la competenza per poter fare questo tipo di valutazione quindi questo è quello che noi possiamo misurare la qualità possiamo misurare la qualità possiamo misurare che è poi misurare il livello di soddisfazione finale da parte di consumatori che hanno altissime aspettative da un prodotto che gode di un'alta reputazione ma che è ancora più alta quando si parla di alba e anche le aspettative sono altissime quindi noi dobbiamo rispondere a questo così come il prezzo certo quello lo possiamo misurare possiamo misurare i dati meteo possiamo misurare il prezzo possiamo misurare la percezione possiamo misurare il livello qualitativo possiamo misurare i tartufi che noi controlliamo ma non possiamo misurare altro queste sono le armi che noi abbiamo a disposizione e come centro studi anche insieme a partner eccellenti che ci spondano in qualsiasi nostra ricerca come lentefiera del tartufo proviamo un pezzo alla volta misurare tutto quello che possiamo in maniera scientifica in maniera approfondita e in questo caso noi finiamo la parte analogica inizia quella digitale quindi coinvolgiamo delle realtà che possano darci una mano a implementare ulteriormente il nostro processo di certificazione e qui entra in causa Var Group giusto Jacopo Romagnoli che ha affiancato il centro studi per questo diciamo upgrade della della certificazione con l'idea di utilizzare la tecnologia blockchain per consentire una certificazione ancora più diciamo come dire certificata si corretto diciamo che come la tecnologia da sola è uno sforzo tecnico ok il bello di collaborare e di appunto utilizzare la tecnologia insieme a degli enti come Fia del Tartufo centro studio del Tartufo e all'incontri che si riescono a fare anche grazie a collaborazioni come con BTO con Carlo Vischi è proprio di riuscire a mettere a terra dei progetti pratici in cui riusciamo a elevare a dare valore a quello che è il prodotto del Made in Italy di cui insomma il Tartufo è un esempio eccezionale e ad applicare appunto delle tecnologie e delle innovazioni che altrimenti resterebbero diciamo un po' sfarfallanti ok in questo caso quello che si fa è proprio aiutare il processo di mi piace dire di battesimo ok dei Tartufi in qualche modo andando proprio a coniare a far coniare dagli esperti quello che si può chiamare il gemello digitale del Tartufo per cui riportare in qualche modo l'unicità di un prodotto anche su un campo digitale e questo è stato diciamo facilitato anche da alcune problematiche che abbiamo riscontrato nel colloquio insieme appunto ai nostri partner riguardanti per esempio quello che è tutto il mondo della contraffazione del fatto che magari un sigillo utilizzato in maniera analogica in maniera diciamo meno forte potesse comunque finire su qualcosa che non era in realtà diciamo il prodotto originario per cui abbiamo pensato che l'introduzione di uno strumento tecnologico più forte potesse in prima battuta aiutare proprio a certificare che il sigillo fosse corrispondesse esattamente al prodotto a cui era stato originariamente associato e in più poterci legare in maniera prospettica anche delle nuove evoluzioni abbiamo sentito parlare di legame tra prodotto territorio tra prodotto e altre esperienze ecco questo grazie proprio all'utilizzo di tecnologia blockchain NFT può essere assolutamente uno strumento abilitante a questo tipo qui di dinamiche per cui sempre più vediamo un legame fortissimo tra consumatore tra prodotto e tra cultura che sta intorno a un prodotto legame tra prodotto e altri prodotti di quel territorio e questo secondo noi tra l'altro fortunatamente in Europa in particolare in Italia si sta creando un momento molto interessante per l'utilizzo delle tecnologie blockchain perché siamo grazie a per esempio l'introduzione del MICAR e di altre regolamentazioni che fortunatamente stiamo portando avanti stiamo diventando un posto veramente buono per fare sviluppo meglio degli Stati Uniti per esempio per cui ecco secondo noi c'è un punto d'attenzione forte che va assolutamente sfruttato entriamo ancora di più nel dettaglio cerchiamo di farci spiegare cosa significa questo sigillo digitale cioè questo sigillo che diventa anche sigillo digitale cioè se Vincenzo Rana che è lo sviluppatore se non sbaglio o poi della parte tecnica di questo progetto ci spiega a me che capisco poco di queste cose cosa succede quando compro un tartufo certificato con questo sistema assolutamente allora cosa posso vedere assolutamente allora diciamo partiamo da questa da questa introduzione permetto di fare qualche un paio di cose diciamo per introdurre il tutto anch'io come Jacopo a differenza di molti di voi ho un background tecnologico questa volta appunto spaventa sento anche prima parlare di tecnologia non sempre se ne parla in modo diciamo positivo questo è normale se non avete abbastanza terrore posso parlarvi 45 minuti di crittografia adesso vedo il terrore negli occhi quindi punto giusto questo è normale la tecnologia a volte divide aliena crea problematiche e questo lo vediamo tutti sotto i nostri occhi però quello che mi piacerebbe dirvi e per poi andarvi a spiegare come funziona questa soluzione quindi un po' per tranquillizzarvi è che a volte invece la tecnologia può essere utilizzata al contrario per favorire alcuni processi per portare a termine alcuni obiettivi di business e non solo positivi e oggi ho sentito parlare di tantissime tematiche che mi hanno ricordato questi spunti quindi insomma cambio un po' quello che dovevo dire anche se poi rispondo ovviamente per accenare a questo allora abbiamo parlato oggi di tanti temi uno dei primi temi che ho sentito citare è la qualità qualità dei prodotti e qua si sposa perfettamente con quello che vi ha raccontato benissimo Jacopo poco fa quindi come si fa a garantire la qualità di un prodotto per esempio in questo modo quindi io prendo un prodotto lo analizzo e vado a garantire che ha una certa qualità lo posso fare ex post quindi arriva il prodotto io lo guardo lo analizzo e vado a certificare lo posso fare in una modalità diciamo manuale cartacea oppure anche digitale e questo porta dei vantaggi che poi magari approfondisco però ne approfitto per dire che in realtà c'è anche qualcosa di più abbiamo parlato prima anche di sostenibilità rispetto del territorio ecco queste sono cose che non finiscono direttamente nel prodotto quando io mangio un prodotto o fruisco un servizio queste cose sono un po' indirette chiaro hanno contribuito a creare quel prodotto però non sono parte del prodotto non le assaggio non le assaporo ecco qua la tecnologia può venire in aiuto andando a legare a un prodotto fisico alcune informazioni che sono legate per esempio come è stato prodotto da chi è stato prodotto in che tempistica tutte cose che io posso andare ad agganciare possono aiutarmi a capire se per esempio un certo prodotto un certo servizio rispetta il territorio è stato fatto sto prendendo a chilometro zero oppure no e queste sono informazioni aggiuntive ma non ci fermiamo qua perché prima e mi aggancio a questo punto alle parole di Stefano Mosca che ha parlato prima un'altra cosa importante sono le esperienze quindi io non soltanto ho il prodotto non soltanto voglio che magari venga rispettato l'ambiente e il territorio ma vorrei anche in qualche modo percepirlo come esperienza come faccio a fare questa cosa beh per esempio io posso agganciare esperienze che sono ovviamente magari temporanee e che vivo direttamente quando fruisco il servizio e assaggio il prodotto però posso agganciare anche delle esperienze che possono perdurare nel tempo quindi per esempio potrei in bassa stagione offrire a chi ha fruito di certi prodotti o servizi delle esperienze diverse quindi andare a collegare diciamo quello che ha fatto una persona in alta stagione o quello che potrebbe fare in bassa stagione andare a cambiare un po' anche il modo in cui mi pongo e magari andare a cambiare anche il dato in cui colleziono i dati abbiamo visto prima dei dati interessantissimi legati all'affluenza eccetera eccetera pensate quanto sarebbe bello e interessante sapere quante persone sono venute in un certo momento sono tornate come si sono trovate di che servizi hanno fatto uso quali prodotti hanno mangiato quindi di ciascuna persona andare a sapere cosa ha fatto questo ovviamente sarebbe bello da un certo punto di vista spaventoso dall'altro perché sarebbe una tracciabilità pazzesca immaginatevi se esistesse e piccolo spoiler esiste una tecnologia che mi possa permettere di tracciare le persone avere questi dati di quella granularità rispettando privacy dei dati e anonimato se io potessi fare questo e ripeto si può fare quindi sono cose che magari nei prossimi mesi anni vedremo io potrei avere i dati di dettaglio di come si è trovata una persona che recensione ha lasciato quindi magari certificare le recensioni sapere che si è trovato bene in un certo posto male in un altro quando è tornata perché è tornata perché non è tornata senza ovviamente sapere magari il nome e cognome di quella persona questo mi interessa molto meno e qua stiamo parlando soltanto del singolo utente consumatore pensate poi quando si parla di community e quindi ecosistema cosa può voler dire avere un ecosistema di tutti i miei consumatori o di tutti i turisti su un territorio oppure delle entità locali che interagiscono pensate cosa può voler dire interagire con queste comunità in un modo diretto senza passare magari da quello che oggi viene fatto passare da enti terzi per esempio i social network io magari potrei voler avere una comunità sulla quale fare meccanismi sociali di engagement di esperienze esperienziali che vadano a coinvolgere tutti e questo mi porta al concetto di catena del valore che ho sentito prima di filiera perché ovviamente dalla ristorazione pernottamento ai trasporti ci sono tante filiere che oggi operano cercano di operare in maniera congiunta ma non è facile ancora la tecnologia può venire in aiuto per collegare tutti questi pezzetti e permettere di creare ecosistemi in cui l'utente possa operare quindi pensate per esempio io potrei andare a favorire andare a scontare il pernottamento e la ristorazione a favore di un altro settore andando poi a compensare tra i vari settori quindi io do il trasporto gratis o il pernottamento gratis e poi quello che guadagno dalla ristorazione lo vado a spalmare sugli altri settori lo potrei fare però mi servirebbe una cosa mi servirebbe il certificato e la garanzia che tutto quello che è stato speso viene poi ridistribuito ecco di nuovo tecnologie come blockchaining hanno aiuto di questa ridistribuzione trasparente ho sentito anche questa parola prima dei valori che vado a creare torno quindi a rispondere alla domanda due panel in uno non sto scappando velocissimo come si fa questa cosa? beh io posso creare dei certificati digitali che non sono alterabili non possono essere modificabili hanno una azione che è certa lo posso agganciare in diversi modi a un prodotto e diciamo mentre io faccio fatica a tracciare un prodotto fisico perché ovviamente non è facile capire che percorso fa una cosa più facile è tracciare un prodotto digitale quindi se io associo il prodotto fisico al digitale io poi posso tracciare il prodotto digitale e questo appunto lo posso fare per il tartufo ma immaginatevi anche per le filiere di cui ho imparato prima nel turismo traccio il prodotto digitale e in realtà sto raccogliendo dati sul prodotto fisico grazie no grazie davvero e grazie anche per la prima parte perché ci ha aperto davvero uno scenario che da una parte è interessantissimo dall'altra ovviamente come diceva subito all'inizio incute anche un po' di timore nel senso un po' la sindrome dell'isola deserta fa venirla nel senso che poi però il punto resta secondo me veramente questo nel senso che abbiamo ovviamente non a caso qui né l'ente fiera né il centro studi vendono tartufi no e questo mi sembra poi il punto fondamentale sulla discussione su cui richiamerei anche un po' con Stefano cioè stiamo parlando di soluzioni e di prospettive che non sono appunto puramente per un valore commerciale o direttamente commerciale ma sono per poter tenere un'asticella che in questo caso si vuol tenere alta per tanti motivi proprio per il tipo di destinazione per il tipo di cosa per cui poter fare questo tipo di riflessione vuol dire garantire che la fiera di Alba nel suo per quello che può e per quello che si sforza di fare pone l'asticella in questo modo qua non è scontato nel senso che non so quante siano le fiere del tartufo in regionali locali e nazionali l'unica che fa questa cosa qua è la fiera di Alba c'è ancora una che sta iniziando in questi anni c'è ancora un'altra fiera piemontese che attua il controllo qualità però no Alba è sicuramente e allora questo poi alla fine dà la risposta al dire perché poi è riconosciuto ad Alba questo primato nel senso che semplicemente è un po' un dato di fatto per cui tornerei a Stefano nel chiedere appunto anche questa seconda parte cioè cosa diventa operativamente per una fiera del tartufo e se è vero quello che stavo dicendo cioè per voi questo vuol dire cercare di collocarsi di posizionarsi in un certo modo sì noi ci poniamo sempre come ente fiera e evento fiera del tartufo come un laboratorio ci piace molto questo ci tengo a ringraziare un ragazzo qua in sala che è Carlo Vischi perché siamo qui anche con questa esperienza grazie a Carlo che è sempre uno stimolatore digitale posso dire così ci dà sempre degli input interessanti e sviluppiamo delle esperienze proprio ponendo la fiera come laboratorio su cui applicare questo l'abbiamo fatto facendo le analisi sensoriali sul tartufo a distanza grazie a un altro spunto di Carlo cioè è questo che vogliamo raccogliere vogliamo raccogliere tutti gli stimoli che oggi la tecnologia ci ci dà gli strumenti che ci mette a disposizione per presentarci non come dei campioni di innovazione digitale ma come un laboratorio su cui sperimentare noi siamo curiosi siamo una piazza credo interessante a livello globale che ben si presta a questo tipo di attività per cui direi che questo è uno spunto che cogliamo e siamo aperti a coglierne altro rispetto a quello che dicevate ricordando una cosa che ha sottolineato cioè l'associazione tra fisico e digitale perché noi stiamo parlando questo forum si chiama food and wine tourism forum cioè quindi noi stiamo parlando di turismo che è il settore per eccellenza labor intensive più importante al mondo perché ce ne sono altri che sono l'energia che è ancora più importante ma è molto capital intensive il turismo è labor intensive parlando di filiera parlando di catena del valore la risorsa umana è centralissima cioè ci sono pochi settori più importanti dal punto di vista economico forse anzi non ce ne sono proprio che abbiano la risorsa umana al centro non c'è nulla di più analogico di noi stessi come esseri umani allora è questo credo lo spunto e lo stimolo che abbiamo Magda Antonioli citava questo forse Alessandra 67% di carenza di domanda di lavoratori nel settore in Europa ma ci sono degli imprenditori qui sanno che difficoltà oggi abbiamo tutti a cercare delle persone cioè il tema analogico è un tema enorme la tecnologia ci può aiutare a risolvere parte di queste cose ma se ragioniamo davvero in un'ottica di filiera e credo che questo territorio sia immerso più di ogni altro in Italia dal punto di vista del food and wine tourism perché i prodotti eccellenti di questo territorio tutta roba analogica tutta roba che viene dalla terra ecco sono tutti entrati nella catena del valore ed il tema cioè se questi prodotti parliamo del tartufo bianco d'alba ci sono altre zone in Italia in cui esiste il tartufo bianco d'alba altre fiere in Piemonte che valorizza il tartufo bianco d'alba perché alba questa roba qua e beh perché come nessun altro angolo dell'Italia o del mondo ha saputo immettere un prodotto della terra nella catena del valore ovvero nella filiera della ristorazione non solo del commercio perché se ti fermi al commercio come altre zone vinicole mondiali sono destinazioni noiche non sono destinazioni del turismo enogastronomico che è una roba completamente diversa ma perché mancano dei presupposti che sono imprenditoriali sono di formazione sono di marketing e di comunicazione allora credo che questo sia il terreno su cui noi dobbiamo giocare su cui affrontare le sfide e su cui aprirci alla tecnologia che ci dà una enorme mano ecco la contemporanea un sostegno è uno strumento cioè torno a quel concetto io credo sia molto importante in questa sede ribadirlo non è che se adesso utilizzi la tecnologia sia innovativo perché siamo riusciti a ragionare grazie allo spunto di Carlo grazie a Val Group grazie al professore Politecnico su e a realizzare un qualcosa di così innovativo a livello di certificazione perché era già tutto fatto sulla carta perché ci sono delle persone che sono i giudici che sono delle persone fisiche spesse volte anche dei belli omoni o delle belle signore che hanno il saper fare hanno l'expertise hanno il know-how hanno gli strumenti concettuali e fisici che ci permettono poi di trasferire questo expertise nella come dire nel settore digitale o fruire del supporto che il digitale oggi ci può dare allora questa cosa qui credo che sia importante e su cui noi come Fiera Centro Studi e Entreturismo continuiamo a proporsi al mondo in termini laboratoriali l'invito è usateci sfruttateci noi come Carlo sa come Val Group sa e gli altri partner cito Microsoft con cui abbiamo aperto una collaborazione stiamo lavorando da qualche tempo siamo aperti a porci come una vetrina mondiale questo siamo non è che ci dobbiamo adesso permetteteci uno spot così ma lo siamo su cui sperimentare noi siamo molto aperti la regione l'osservatorio Visit Piemonte ci ha seguito e ci ha usato a sua volta perché una prassi che è stata trasferita poi ecco questo a me pare sia il modo corretto di porci come sistema territoriale rispetto a queste sfide bene io direi che il nostro tempo è concluso io ringrazio tutti i relatori credo che ci sia subito un altro panel qua in sala per cui passo di nuovo la parola a Roberto Milano